se hai bisogno di esportare i tuoi file dal tuo account di google quindi google workspace ad esempio al tuo computer questo è il video che fa per te prima di tutto perché dovresti esportare i file beh può essere sia per un discorso di sicurezza di backup così tu hai sempre una copia sotto computer nel caso dovesse succedere qualcosa al tuo account una situazione penso molto remota ma ci sono altre situazioni un po più possibili ad esempio hai collaborato con un ente un'organizzazione una scuola università per un certo periodo di tempo hai usato la sua piattaforma lo spazio che questo ente ti concedeva su google quindi parliamo di google drive classroom gmail e tutto quanto però adesso tuo contratto è finito il tuo mandato è terminato e quindi te ne devi annarne e però giustamente pensi d'accordo ma tutta la roba che ho lì che me ne faccio come faccio a non perderla perché da lì a un po probabilmente ti chiuderanno l'account e quindi tutto scomparirà oppure sei il professore il docente di uno studente che sta terminando ad esempio il suo ciclo di studi all'interno di una scuola e quindi vorrebbe portarsi con sé tutto il lavoro che ha fatto negli ultimi anni evitando quindi che tutto venga cancellato con la chiusura del suo account oppure hai seguito qualche corso di un'università ad esempio penso al mio tfa come tanti altri miei compagni di corso terminato il corso appunto il l'università ti chiude l'account e giustamente tu vuoi portarti a casa tutto il lavoro per non perderlo e magari chissà ripubblicarlo anche in altri modi ora dopo è scontato in questo video che la tua organizzazione abbia usato google quindi drive classroom gmail ci sono anche altre piattaforme proprio ognuna un po la sua modalità per cui io adesso mi concederò su questa perché non penso che sia anche la più la più diffusa allora veniamo subito al primo concetto dunque è possibile esportare i propri dati si adesso vediamo come e ci sono varie modalità io qui ti spiego quella più semplice ad esempio se tu vuoi esportare i file di gu di scusa di drive ad esempio è molto semplice penso che tu lo sappia già ossia vai sul tuo drive selezioni file cartelle sotto cartelle senza problemi scegli tutto quello che vuoi scaricare poi scegli opzione tasto destro oppure verso il menu opzione scarica download e automaticamente ti scarica tutto sul computer la questione e per quanto riguarda gmail puoi fare anche quello certo direttamente da gmail e per quanto riguarda tipo ad esempio google foto se hai usato anche quella fine funzione oppure google keep si è usato anche google keep della tua organizzazione magari per scrivere brevi note oppure organizzarti il lavoro ho una buona notizia per te si può fare tutto quanto con pochissimi click e tutto in blocco grazie ad una funzione che è stata poi fortemente anche spinta diciamolo dall'unione europea quando introdotto il gdpr e gdpr ossia tu organizzazione tu piattaforma devi dare la possibilità alle persone di cancellare l'account e quindi tutti i dati relativi a quell'account ma devi anche dare la possibilità di scaricare cioè andare alla persona la possibilità di scaricare tutti i dati di quell'account prima di chiuderlo e quindi ci viene in aiuto adesso questa funzione però entriamo nel vivo dunque innanzitutto devi andare su ti metto il link in descrizione takeout lo facciamo in tempo reale takeout.google.com te lo metto in descrizione ecco come vedi dalla schermata abbiamo varie possibilità vedi questi sono tutte cose che possiamo scaricare però prima dobbiamo scegliere l'account giusto questo è il mio account personale se sul tuo computer o sul tuo cellulare hai più account registrati vai sull'account adesso ovviamente simulo il mio vai sull'account dell'università della scuola dell'ente dell'istituzione o quello che è eccoci qua ed ecco questa schermata ecco un'altra premessa do per scontato che tu abbia ripulito tutto il non necessario ad esempio nel tuo account cioè nell'account gmail dell'istituzione tu hai svuotato il cestino hai cancellato quelle email che non ti serviranno in seguito su drive magari quei file che non ti servivano in modo da evitare di riempire il tuo computer di spazzatura perché tutta roba che scaricheremo allora vediamo un po la schermata qui google di default ti dà già la possibilità di scaricare tutte queste cose adesso le andiamo a vedere ma noi non interessano queste cose tutte in blocco ad esempio le attività le volte in momenti cui tu ti sei logato sulla piattaforma oppure acquisti e prenotazioni che tu hai fatto attraverso quell'account se l'account esempio dell'università magari non li hai mai fatti non ti servono google te li spunta già tutti però noi facciamo una cosa più bella andiamo su deseleziona tutto ecco qua tutto vuoto adesso andiamo a scegliere noi quello che ci serve in particolare puoi vedere tutta una serie di robe che magari tu non hai mai usato se hai usato il calendario di google dell'università puoi spuntare questo la cosa interessante che ok vabbè adesso qui mi fai dare questo ti dà la possibilità di scegliere anche quali calendari scaricare magari tu hai creato più di un calendario io in realtà non lo seleziono perché non l'ho mai usato poi ecco ad esempio preferiti la cronologia di chrome sito usato chrome connesso all'account del dell'università magari ai immagazzinato di segnalibri te li vuoi tenere di link te li vuoi tenere spunti anche questo classroom questo lo facciamo probabilmente avrei usato classroom in un modo o nell'altro i tuoi corsi compiti griglie commenti di feedback se tu sei stato un docente altrimenti non ti serve i contatti questo perché una volta che tu hai scaricato questi contatti che hai usato con il gmail ad esempio dell'università o dell'ente questi contatti li puoi una nota che gli scaricati li puoi poi importare caricare su il tuo sulla tua piattaforma di contatti anche personali tipo ad esempio un account di google personale e così ti conservi l'indirizzo email il numero di telefono dei tuoi colleghi delle persone con cui sei entrato in contatto attraverso quell'account con l'unologia delle posizioni di mappe si è usato mappe connesso al tuo account insomma penso che tu abbia ormai capito come funziona ecco drive sicuramente molto probabilmente tu hai inserito hai usato drive per metterci della roba ecco questo è ci permette tra l'altro come puoi vedere di anche scegliere quali cartelle scaricare quali invece non ci interessano io adesso scarico tutto quindi includi tutti i file e le cartelle in drive io posso rimuovere questa spunta e scegliere una per una non i singoli files ma le cartelle adesso mi interessa tutto ok andiamo giù ti evito tutta questa roba qua google finanza vabbè google foto se tu hai caricato qualcosa proprio sulle google foto allora magari ti può servire riscaricarle magari per raggiungerle poi al tuo account e personale di foto in qualche cartella per non perderle io no ok andiamo giù 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 tutti acquisti ovviamente poi vedi tu di volta in volta che cosa hai fatto con il tuo account istituzionale ecco qua google keep e sono poi post it di google io non ne ho usati ma se tu li hai usati allora ecco che puoi spuntare io adesso lo tolgo le mie attività liste della spesa le mappe la cronologia delle mappe di spostamenti se avevi le mappe di google collegate con l'account istituzionale nel mio caso andiamo giù giù posta eccolo qua gmail ovviamente sì anche qui la cosa interessante è che di gmail io posso scegliere che cosa scaricare se io ho creato anche delle cartelle ad hoc in gmail posso farlo io adesso qui ovviamente tengo questo per buono perché archiviata sì bozze no anzi togliamolo tanto non ho nulla nelle bozze acquisti no aggiornamenti sì perché a volte arrivano delle mail istituzionali gli aggiornamenti forum anche personali promozioni no social no viaggi no il cestino no frega niente chat neanche perché non ho usato la funzione di chat di questo gmail come puoi vedere vabbè da leggere tutto quanto dipende anche un po da che cosa tu hai usato la posta in arrivo sì ovviamente la posta inviata sicuramente speciali va bene ok andiamo giù non c'è più molto altro ecco versione classica di sites google sites se tu hai creato il tuo ragazzo il tuo studente ha creato qualcosa con google sites io spunto la versione classica ma in realtà se tu hai usato l'ultima versione aggiornata come probabile che sia di google sites sappi che non la troverai qui poi ovviamente vedremo dove la troverai youtube e youtube music se tu hai caricato dei video su l'account di youtube sfruttando appunto cioè su youtube sfruttando l'account della scuola vabbè nel mio caso no youtube music insomma come sempre vedi tu che cosa hai usato nel corso del tuo percorso all'interno di quella organizzazione o istituzione o scuola passaggio successivo boom ok scegli tipo di file la frequenza questo perché google ti permette con questa funzione ti permette di avere dei backup anche periodici ad esempio tu puoi dire io voglio che ogni due mesi tu mi faccia scaricare tutto ciò che ho fatto fino ad ora ok in questo caso siccome stiamo pensando alla chiusura dell'account va bene innanzitutto via email tramite email il link per il download che arriverà sull'email ovviamente quella istituzionale quindi non chiudere subito oppure io volendo posso fare in modo che tutta questa roba mi venga automaticamente immagazzinata su drive o su altre su altre piattaforme ti sconsiglio di mettere aggiunge drive perché di nuovo te lo mette sul drive dell'istituzione ma se la tua idea è quella poi di chiudere che senso ha meglio il link per il download ecco qui la ripetizione vedi esporta una volta il nostro caso esporta ogni due mesi per un anno quindi ogni due mesi ti arriverebbe il link tipo di file che ti arriva da scaricare io scelgo il punto zip ma è questo un altro comunque per comodità punto zip tutto questo malloppone ti arriverà in un unico file zippato che poi potrai tenere oppure scompattare dimensioni dei file standard 2 gigabyte in genere metto questo tu puoi scegliere praticamente ad esempio ho messo 2 gigabyte se nel mio account ci sono più di 2 gigabyte di roba di contenuto allora google mi darà da scaricare due file uno da 2 gigabyte uno per la parte rimanente e così via io metto 2 gigabyte perché la connessione se io mettesi 10 gigabyte la connessione quella condizione che impiegherei una vita e non nel caso quindi io metto 2 gigabyte poi mettere anche un gigabyte se vuoi più file spezzettati magari anche una condizione più lenta così almeno te li fai uno per uno ok tenendo conto che magari non hai messo tanto io ad esempio in tutto poi lo vedremo avrò un 4 500 megabyte un quarto dei due gigabyte quindi a me io so già che a me arriverà un unico file oltretutto anche con una buona connessione molto facilmente scaricabile senza spenderci troppo tempo crea esportazione fammi sognare avanzata ok eccolo qui allora google sta creando una copia dei file da cinque prodotti e vabbè qua dice che potrebbe impiegare oro magari giorni tranquillo rilassati perché se parliamo di poche centinaia di megabyte in realtà veramente impiegherà pochi minuti ma addirittura pochi secondi in realtà poche decine di secondi arriverà un'email quindi tu non ti preoccupare questa schermata la puoi chiudere vai a farti un caffè vai a fare la spesa ti diverti e al ritorno dovresti trovare un'email di questo tipo eccolo qui te lo faccio vedere meglio ecco qua ingrandiamo non si ingrandisce vabbè quindi come vedi qua c'è il download conterrà i dati di tatata tutto quanto puoi scaricare i tuoi file fino al giorno 25 giugno perché questo è un email che io ho una prova che io ho fatto ieri vabbè comunque ti da qualche giorno di tempo dopodiché questo link per questioni di sicurezza non funzionerà più comunque vai su scarica i file si apre la finestra del browser eccola qua la schermata degli scarichi ecco hai visto hai notato che già partito eccolo qui uno scaricamento 576 megabyte un download e ci vorrà un po' io adesso non sono in una connessione particolarmente performante qua puoi vedere se hai già richiesto delle esportazioni in precedenza come vedi vabbè 18 giugno 18 giugno insomma ho fatto delle prove prima di registrare questo video io adesso interrompo comunque questo download perché ne ho già un altro quindi facciamo prima ok cancella comunque alla fine questo è quello che ottieni un attimo solo eccolo qua questo qua perché questo è il file zippato uno in questo caso che abbiamo richiesto vedi take out e poi c'è ci sono dei codici c'è il giorno la data con il giorno il mese l'anno l'ora in cui abbiamo richiesto e download insomma robe robe su due essendo un normalissimo file zippato basta cliccare e vediamo il contenuto che sta dentro ed è questo nel nostro nel mio caso aspetta lo ingrandisco nel mio caso è questo vedi c'è tutto quello che abbiamo chiesto classroom i contatti drive e l'email archive browser è una pagina web locale che sia la la apro posso navigare all'interno di questi di queste cose come se fosse un sito internet il locale prega niente nel nostro caso per attenzione qua viene il bello attenzione classroom io avrei potuto non metterlo perché in realtà qua compaiono solo dei dati delle varie classi quindi non sono i file tipo i pdf i powerpoint che tu hai messo nella classroom io te l'ho messo solo come esempio adesso vediamo dove vanno ad infilarsi è perché ci saranno contatti questo importantissimo tutti i contatti ok c'è solo un file che però comprende tutti i contatti che che io ho registrato in qualche modo nell'account in quell'account istituzionale questo è molto importante perché come ti dicevo questo fa il punto vcf io posso prendere un qualunque altra applicazione che utilizzo per i miei contatti ce lo carico sopra e me l'importa così io non li avrò perduti ok drive e qua viene ovviamente il bello eccolo qua mi ha tenuto il cestino vabbè vabbè sì c'è un po di roba ma tanto poi posso cancellarlo tanto queste sono cartelle anzi lo faccio subito prega niente eccolo qua è il nostro classroom visto ci sono già dei file questi sono file in html che praticamente sono dei file un po riassuntivi comunque adesso vediamo ecco qua la cosa interessante e tutto quest'altro drive vedi pdf doc la cosa interessante di questo di questa modalità di esportazione con drive e che vabbè ma è anche la stessa modalità che utilizza se voi andate su drive fate scarica se tu vai su drive fai scarica la cosa interessante è che ti converte automaticamente i file in modo che siano leggibili anche con altri programmi ad esempio i moduli scusami no i documenti di google diventano file doc quindi di word e le presentazioni di google diventano powerpoint le presentazioni scusate i fogli di google diventano indovina un po excel ovviamente pdf immagini foto video mp3 queste robe qui invece sono file universali rimangono uguali quindi eccoci qua allora dopo di che abbiamo un attimo solo ecco qua email le mail e questo è anche un altro dato importante come puoi vedere qua ci sono tante cartelle che per realtà sono dei file dei contenitori vabbè adesso non scendo nel tecnico punto m box vuole dire che praticamente per le varie cartelle che in fase esportazione io ho scelto di esportare parliamo di gmail lui mi ha creato un contenitore per ogni cartella si esatto per ogni cartella e dice il contenitore archiviata aggiornamenti forum personali le avevo selezionati prima posta inviata ok che cosa me ne faccio all'interno di questi contenitori ci sono le singole email adesso vediamo se riesco a farti vedere il contenuto del pacchetto da qui no vabbè comunque no ok vabbè la cosa interessante vabbè adesso non ci interessa questa cosa la cosa che ci interessa che questo punto m box è un formato standard universale per le tutte le email quindi vuol dire che io posso a questo punto ottenermi queste email archiviate nel mio computer nel caso dovesse servirmi apro e me le vedo e le recupero oppure posso andare su un altro canto di gmail ad esempio magari vostro personale o qualunque altra piattaforma di posta elettronica e importare ogni singola categoria quindi vuol dire che quelli mail le avrete all'interno della vostra nuova casella di posta elettronica e a quel punto potrete fare tutte le operazioni che potete fare con una normalissima email questo è molto molto interessante ok poi ovviamente devi vedere tu che cosa hai messo dentro questi spazi e spulciartelo ok quindi volevo solo così un po alla veloce anche se siamo a 22 due minuti vabbè ma ce l'abbiamo fatta farti vedere come esportare questi dati è molto molto importante perché perché i contatti come ti ho detto magari ti potrebbero servire in futuro non li perdi drive ebbè se c'è fatto del lavoro oppure il tuo ragazzo magari sarà accanto il suo ci ha fatto del lavoro è arrivato alla quinta superiore cambia su va avanti lascia la scuola e l'accanto glielo chiudono è anche bello che si possa portare via il proprio lavoro con sé le email sono molto importanti secondo me perché non si sa mai se viene fuori un qualcosa dopo voi avete la vecchia email a cui risalire e questo è sempre utile bene allora ti ripeto questo nel caso la tua organizzazione la tua scuola la tua università abbia usato google comunque la stessa esporta della stessa modalità la puoi avere anche su microsoft su altre piattaforme cambia il link cambia forse un po la procedura di esportazione ma il succo il discorso è sempre è sempre lo stesso non cambia perfetto allora come sempre se vuoi metti like iscriviti al canale ovviamente e soprattutto fammi sapere nei commenti se ci sono dubbi perplessità se hai bisogno di altro io sono qui per parlarne nel frattempo ti auguro delle buone giornate ciao